Tutto da copione, neretto, re canatese. Nell'anticipo della venticinquesima giornata i marchigiani si impongono con un sonoro poker firmato minicucci, doppietta di minnozzi e il solito sbaffo per i vibratiani ennesimo KO in una stagione lunga e difficile. Pronti via sono subito gli ospiti a rendersi pericolosi, sbaffo, alza la testa e prende la mira fuori di un nulla. Suona la carica, una mancetta di minuti dopo minicucci, ma i padroni di casa si salvano per il rotto della cuffia. Poco male per i giallorossi che riescono a mettere la freccia sul successivo corner, dopo un'azione insistita allo stesso numero 7 Caparvio, all'Alberto tomba zigzaga in aria e griffa all'1-0. Rotto l'equilibrio, la partita va in discesa per i ragazzi di Pagliari che trovano immediatamente il raddoppio. Con gli solito minnozzi, l'ex Pineto non ha problemi a confezionare il cioccatolatino del compagno. Il Nereto prova a rispondere con Boito, ma è troppo poco per farmare all'area canatese. Nel finale prima sbaffo e poi ancora minicucci oggi in giornata di grazia. Per poco non mettono la partita in ghiacciaia già nella prima frazione, ma la difesa locale riesce a salvarsi come può. Nella ripresa il match continua a recitare il solito monologo leopardiano. Minnozzi tutto molto facile, doppietta personale e tris servito. Non può mancare al tabellino dei marcatori Alessandro Sbaffo che impreziosisce la sua prestazione e l'intera gala con questa gemma che vale il 4-0 e il poker finale. La re canatese dunque vince e convince qualora ce ne fosse stato bisogno contro il Nereto e vola nuovamente a 10 punti in classifica. In attesa che il Trastevere faccia vista nel prossimo weekend al Fiugi nel derby laziale per il Nereto. Un altro stop in campionato contro un avversario di caratura di gran lunga superiore.